buongiorno oggi parliamo con la dottoressa maria chiara pettenati che è dirigente di ricerca presso l'indire parliamo con lei perché lei si è occupata recentemente di coordinare un importante lavoro di ricerca che ha dato luogo ha dato origine ad un volume altrettanto importante che si intitola l'anno di formazione e prova degli insegnanti dal 2015 ad oggi con un sottotitolo molto bello secondo me che è cronistoria di una ballata popolare poi lei ci spiegherà anche il perché di questo sottotitolo intanto diciamo molto rapidamente una cosa in questo volume è raccolta sono raccolti dati di una ricerca che voi dell'indire avete fatto in merito alle procedure ai dispositivi come voi richiamate dell'anno di prova dei docenti italiani anno di prova che dal 2015 a oggi ha visto la partecipazione di ben 250 mila insegnanti questi 250 mila insegnanti sono stati intervistati attraverso dei questionari e anche attraverso altri strumenti e hanno dato la possibilità a voi di fare un rapporto molto completo molto interessante su qual è oggi lo stato dell'arte e soprattutto su qual è anche la come dire la percezione che gli insegnanti hanno di questo modello allora intanto ci dia qualche dato numerico come è andata questa ricerca appunto io ho dato questo numero 250 mila è giusto? sì 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 è giustissimo e diciamo raccogliamo i frutti di questi sette anni di esercizio di questa importante diciamo innovazione no della di questa importante riforma nella formazione degli insegnanti e quindi possiamo anche arrivare a considerare che sostanzialmente un insegnante su tre dei docenti che sono attualmente in servizio adesso sono entrati nella scuola italiana diciamo con l'ingresso accompagnato da questo modello quindi era decisamente il tempo di fare il punto era il momento di raccogliere i frutti di questa esperienza perché adesso è anche un momento molto importante dal punto di vista della cura dell'attenzione che si sta dedicando al ripensamento della formazione degli insegnanti in senso ampio dalla formazione iniziale alla formazione in ingresso alla formazione in servizio l'intento è quello di pensarle e l'obiettivo e l'utilità è quella di pensarle in continuità come un continuum che dura per tutta la vita e quindi questi sette anni di esperienza di dati raccolti di analisi fatte ci consentono di capire cosa ha funzionato che cosa possiamo portare oltre ai lati sia nella formazione in servizio che nella formazione in ingresso di quello che qui abbiamo ampiamente sperimentato sono stati sette anni di una vera e propria ballata ecco perché avete usato questo sottotitolo spieghiamolo meglio a chi ci ascolta perché forse non tutti sanno l'origine di questa espressione è un sottotitolo che ci è molto caro perché è un omaggio a Giancarlo Cerini che ha accompagnato l'introduzione di questa riforma e appunto è sua l'espressione alla ballata popolare perché diciamo lui usava dire che quando una riforma diventa veramente innovazione è come una ballata popolare che trascinano tutte le persone coinvolte che devono essere coinvolte in questa e le trascina con gioia no in un'attività che è valore che è divertimento e quindi il volume è a lui dedicato il sottotitolo lo manifesta pienamente. Senta vediamo un po' ora qualche dato di questa indagine che voi avete fatto secondo lei quali sono gli aspetti più rilevanti che emergono dalla vostra ricerca? Allora ci sono tanti aspetti interessanti perché il modello di formazione che abbiamo analizzato è un modello articolato che diciamo naturalmente non è soltanto formazione online che è l'aspetto di cui principalmente si è occupato in dire o è riconosciuto in dire come diciamo ospite della piattaforma nazionale che accoglie gli insegnanti che svolgono l'anno di prova ma il modello è l'intreccio di un'esperienza che è insieme esperienza in presenza ed è insieme distanziamento da quell'esperienza in presenza che avviene nella scuola perché gli insegnanti operano tutti i giorni nella loro scuola e si distaccano un attimo e attraverso la piattaforma diciamo documentano e riflettono su quell'esperienza che stanno svolgendo quindi diciamo bisogna un po' distinguere i risultati che abbiamo ottenuto sia riguardo a riguardo alle varie caratteristiche del modello perché un elemento che consideriamo un pilastro di questo modello di formazione non ha un vero e proprio corrispettivo nell'ambiente di documentazione online ma è decisamente uno degli elementi di maggior pregio che è emerso nella nostra ricerca ed è l'accompagnamento del tutor accogliente quella fase che in questo modello di formazione si chiama peer to peer. Ma esattamente che cos'è questo peer to peer? Che cosa significa? Che cosa si fa in questo tipo di attività? Cosa fanno gli insegnanti e cosa fa il tutor? Il peer to peer è un'attività in cui un tutor accogliente è incaricato dal dirigente scolastico di accogliere il nuovo insegnante nella nuova comunità educante e come diceva Giancarlo Cerini è incaricato di fare il tifo per l'insegnante questa trova una bellissima espressione che Giancarlo usava a dire per diciamo sostanziare l'aspetto di incoraggiamento anche umano di ti aiuto a superare queste difficoltà e questo stress di questo nuovo inizio ti aiuto a conoscere la nuova comunità in cui in cui ti vai a trovare te la presento te la illustro non a caso si faceva riferimento anche no ti aiuto a leggere i documenti programmatici di questa nuova scuola perché ti aiuto a capirla e poi diciamo naturalmente il peer to peer è un'attività che in questo modello di formazione si sostanzia in attività di coprogettazione di osservazione reciproca di affiancamento nella compilazione del bilancio iniziale delle competenze che è un altro pilastro chiave di questo modello ed è uno strumento che diciamo viene utilizzato insieme dal tutor accogliente e dell'insegnante in formazione e prova per riflettere sulle caratteristiche sulle competenze della professionalità docente e abbiamo capito che questa esperienza fa bene a tutte e due quindi aiuta l'insegnante che entra nella scuola ma aiutando l'insegnante esperto che lo accoglie quindi il peer to peer è sicuramente un elemento di pregio di questo modello abbiamo imparato a capirlo abbiamo capito proprio dai dati che sono rappresentati illustrati nel volume che sia sul piano umano e relazionale che sul piano della professionalizzazione che sul piano proprio degli stimoli culturali sia il docente neoassunto ma ancor più il tutor accogliente rimangono estremamente diciamo favorevolmente ecco con un bagaglio ecco di esperienza qualificata utile significativa senta nel volume sono contenuti tantissimi grafici istogrammi di vario genere ecco ce n'è uno che mi pare proprio metta in evidenza anche il gradimento degli insegnanti sia degli insegnanti in formazione sia degli insegnanti tutor proprio su questo tipo di attività ce lo vuol far vedere ce lo illustra ci spiega che cosa stanno ad indicare questi dati ecco vi faccio vedere questi due questi due grafici che rappresentano il giudizio complessivo che il docente ha espresso sull'esperienza di peer to peer e il corrispondente nel caso dei tutor qui abbiamo due annualità di rilevazione 2017 18 2018 19 in cui abbiamo chiesto agli insegnanti informazione proprio prova se giudicavano utili nel complesso l'esperienza formativa di riferita al peer to peer naturalmente ecco che vedete che la risposta molto è estremamente significativa una risposta più scelta da 70 l'80 per cento degli insegnanti sia nel 2017 18 che nel 18 19 e andando a diciamo riferirsi sia all'esperienza valutata dal punto di vista umano e relazionale sia dall'esperienza sul piano strettamento operativo e professionale e questo è diciamo quello che ci colpisce no è proprio l'esperienza umana e relazionale quanto incida no nel nella percezione di utilità di efficacia espressa dagli insegnanti e dai docenti informazione ma anche e soprattutto questo è un dato che ci piace molto sempre menzionare è il giudizio complessivo del tutor è lì che quando chiediamo a loro se giudicavano utile l'esperienza formativa anche qui la rilevazione si si riferisce alle tre annualità vedete quanto diciamo è rilevante la scelta molto dell'opzione molto riferita alle caratteristiche umane e relazionali dell'esperienza ma anche dal punto di vista operativo e professionale sul piano degli stimoli culturali abbiamo comunque la larga maggioranza dei tutor e questo ci fa capire che i tutor sono pronti e sono gli insegnanti sono pronti a vivere questa esperienza di peer to peer in maniera formativa come è nata ecco inizialmente quando questo modello di formazione diciamo ha cominciato nel 2015 16 l'interrogativo era ma sarà opportuno sarà benvenuta questa osservazione reciproca tra il tutor e il docente ne ho assunto cioè saranno felici di aprire le loro classi poiché no sappiamo che nella professionalità docente c'è diciamo magari questa riservatezza no nel momento della didattica in aula ecco questi sette anni ci dimostrano che certamente sì questo è un momento formativo utile da molti punti di vista sento dottoressa c'è un altro aspetto un altro elemento del progetto formativo che forse magari varrebbe la pena di approfondire un attimo e che è la questione del bilancio delle competenze come è stata colta questa novità del bilancio delle competenze dai docenti informazione e anche dai docenti tutta allora anche questa è un'innovazione che ha avuto bisogno di tempo per diventare per manifestare anche la pregnanza come innovazione culturale no come era diciamo dal punto di vista del radicamento che questa innovazione ha portato il bilancio è stato un esperimento un esperimento riuscito che di nuovo siamo pronti a portare nella formazione in servizio con altre caratteristiche non esisteva fino al 2015 a 16 una un profilo ufficiale di standard professionali della figura del docente ed è stato con questo modello di formazione che diciamo si è consolidato e definito questo dispositivo facendo tesoro di tutti i risultati della ricerca educativa specialmente in ambito francofono ed è stato un dispositivo che è stato creato anche con il supporto di ricercatori accademici cito per esempio la professoressa a magnolere professor pia giuseppe rossi dell'università di macerata lorella gianna andrea che sono stati un po i padrini e le madrine anche di quel momento e di questo dispositivo questo dispositivo ha descritto in indicatori in aree di competenza in standard di competenza in indicatori il profilo atteso di un insegnante in formazione e si è pensato di introdurlo come strumento di autovalutazione addirittura diciamo alleggerendone il carico autovalutativo perché non se ne percepisse una valenza neanche lontanamente valutativa o valutabile da un esterno ma proprio come strumento di autovalutazione tanto che si chiede dal 2015 ad oggi si è chiesto agli insegnanti leggi queste queste indicatori di competenza e scegliene due o tre che ti caratterizzano non necessariamente perché sono dei tuoi punti di debolezza ma magari perché sono dei tuoi punti di forza ed elabora un commento questa libertà nel scegliere indicatori e nel non richiedere il posizionamento su una scala di padronanza è un elemento che ha diciamo consentito a questo dispositivo di essere percepito veramente per quello che doveva essere già uno strumento di autovalutazione non giudicante uno strumento di formazione ecco ma a proposito di bilancio delle competenze voi avete anche dei dati proprio di tipo quantitativo ce li vuol far vedere ce li vuole illustrare di che cosa si tratta sì anche questo dato interessante perché ci consente di apprezzare come negli anni e qui vediamo nei risultati che partono dal 2015 16 arrivano al 19 20 il bilancio delle competenze è stato indicato dagli insegnanti come utile nel molto utile nell'aiutare a comprendere in modo più approfondito le diverse dimensioni delle competenze professionali del docente il fatto che nel 2015 16 fossero poco meno del 30 per cento gli insegnanti che dicevano sì lo ritengo utile e nel 2019 20 oltre il 50 per cento con un andamento che apprezziamo essere crescente come si vede da questo grafico ci fa veramente capire che è anche la maturazione culturale dell'uso di questo dispositivo è il sapiente accompagnamento della governance territoriale faccio riferimento agli uffici scolastici regionali agli uffici di ambito e alle scuole polo che hanno spiegato negli anni in maniera sempre più significativa hanno formato anche hanno accolto gli insegnanti che entravano con questo modello di formazione nel comprendere che questo era un dispositivo utile per loro tanto che ecco diciamo adesso abbiamo questa situazione quindi diciamo le due risposte abbastanza e molto coprono la quasi totale la quasi totalità degli insegnanti questo lo ritroviamo un dato molto importante senta io concluderei con questa osservazione con questa domanda allora voi avete dedicato il volume a Giancarlo Cerini il sottotitolo del libro è cronistoria di una ballata popolare senta secondo voi Giancarlo Cerini se leggesse se potesse leggere i risultati di questa ricerca sarebbe soddisfatto del lavoro che lui aveva messo in piedi a suo tempo? Sì mi emoziona la sua domanda perché mi mette nella condizione no di immaginarmi che cosa avrebbe detto ho fatto alla luce di questo volume e lui avrebbe partecipato alla scrittura di questo volume e tant'è che appunto nell'introduzione nell'introduzione dico proprio che è stato difficile scriverlo senza di lui molto difficile però sì sono sicura che ne sarebbe orgogliose sono sicura che rilancerebbe oltre e questi elementi che noi abbiamo sintetizzato proprio anche provando a imparare da lui no cosa ci insegna questa esperienza e cosa possiamo portare oltre quindi sono certa che sarebbe molto soddisfatto di questi risultati ecco ma secondo lei a Giancarlo Cerini che cosa sarebbe piaciuto in particolare di questo libro e degli esiti della ricerca che voi avete fatto? Cosa avrebbe apprezzato? Il fatto che siamo stati in tanti a ballare e che continuiamo a farlo? Bella mi piace questa risposta io credo che lui avrebbe anche apprezzato un altro aspetto non lo so se posso permettermi di aggiungerlo da questo libro che voi avete realizzato emerge anche un dato molto interessante cioè che uno degli elementi importanti di questo modello è anche quello che riguarda le relazioni quindi le relazioni interne alla scuola fra il docente e il tutor fra il tutor e il docente fra i docenti e il dirigente scolastico quindi credo che lui avrebbe apprezzato molto questo perché lui era un grande teorico diciamo della scuola come davvero come comunità di relazione come comunità di educazione quindi io penso che l'avrebbe apprezzato dico bene? Sono d'accordo molto d'accordo grazie ancora a Maria Chiara Pettenati e ci auguriamo di incontrarci di nuovo in occasione magari di una vostra prossima ricerca su altri temi oppure anche su approfondimenti di questo argomento che certamente è molto rilevante come abbiamo detto nel corso della chiacchierata grazie davvero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti